Gian Borno ragazzi, Gian Borno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, io inizio dicendo che sono piuttosto tollerabile nei pensieri di tutti. Perché? Che frase è? Brutta, però in senso, se tu non ritieni magari Gianluigi Buffon un mito, io non mi sento di dirti che ho ragione io, semplicemente la penso in modo diverso. Io nel mio crescere a livello calcistico, ovviamente non fisico, ma nel parlare di calcio, nel capire di calcio, capire non nel senso, capisco tutto io, nel comprendere calcio, Gianluigi Buffon ha giocato un ruolo molto molto importante. Io non sono uno di quelli che dice le bandiere stanno finendo, lui è una delle ultime bandiere, questa cosa non esiste per me. Non esiste perché comunque le bandiere ci saranno sempre. Già vediamo adesso al Napoli che ci sono Amsic e Insigne, due giocatori che hanno scelto di vivere per il Napoli. Ma la Roma potrebbe dire la stessa cosa con Danielino De Rossi, probabilmente con Florenzi, poi staremo a vedere, ci sta anche che vada via, insomma si parla tanto di trasferimento, poi ovviamente si è parlato tanto anche dei vari Zannetti al tempo, Totti, quindi lo stesso De Rossi, quindi insomma. Poi bisognerà vedere come si arriverà appunto a questo momento, quante volte Insigne è entrato nei meccanismi, nel mirino delle altre squadre europee e poi alla fine non se ne è fatto nulla, perché comunque voleva rimanere al Napoli. Le bandiere ci saranno sempre. Certo è che rimane una delle ultime bandiere della mia epoca da bambino. Io ho 21 anni, sono ancora molto piccolo relativamente, però quando io ero piccolo piccolo, quello che appunto quando sei molto piccolo hai dei miti, hai degli eroi a livello calcistico, ecco, quelli si stanno ritirando un po' tutti. Io penso che chi ha la mia stessa età o comunque non è magari del 96, del 97, del 95, del 98 forse, o del 94, 93, i miti ragazzi che abbiamo avuto noi sono quelli del Mondiale 2006. E piano piano si sono ritirati tutti, 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 da Toni a Del Piero, da Totti a Grosso, da Materazzi a Cannavaro fino a Iaquinta e ancora a Pirlo. Si sono ritirati tutti e ovviamente ogni volta era un colpo al cuore. Sono rimasti in pochi. Dopo il ritiro ufficiale di oggi di Gianluigi Buffon rimarranno De Rossi e vediamo anche quando si ritirerà lui. Girardino che è in serie piccolo-spezia, ma comunque presto lui si ritirerà, insomma, anche lui. Forse anche Giacquesano e poi Barzaghi che è arrivato a Vicky Sgoccio. Lui ho questo, la prossima sarà l'ultima stagione con la Juventus. Quindi, insomma, capite bene che siamo quasi alla fine. Io reputo Buffon, io lo sapevo voi non mai mi conoscete, mi conoscete come quella persona che pensa a Buffon come il miglior portiere della storia del calcio. Ma è perché è una mia fissa, cioè io la penso così, è un mio punto di vista. Io non posso fare nient'altro che pensarla così. Oggi è stata la conferenza di Gianluigi Buffon. Io, ragazzi, vedo in Buffon un futuro CT della nazionale, cioè lo vedo già adesso. Io magari dico una cazzata, ma sono sicuro che tra dieci anni parleremo del CT della nazionale Gianluigi Buffon. Non so come andrà l'avventura con Mancini. Magari bene, magari Mancini ci porterà a vincere l'Europa e il Mondiale. Però dopo ci sarà Buffon. Magari, non dico subito dopo Mancini, però ci sarà Buffon. Io vedo Buffon come futuro della nostra nazionale a livello di CT. Oggi Buffon ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla Juventus. Juventus ha detto che sicuramente non rimarrà in Italia qualora dovesse decidere di giocare ancora. Se ne andrà fuori, se ne andrà magari in Cina, magari in America. Non ha ancora scelto, però non si ritirerà in Italia. Diciamo che non continuare la sua avventura in Italia. A meno che, insomma, non diventi dirigente della Juventus. Io credo che questa sia l'ipotesi più accreditata. Anche dopo Totti si era parlato delle varie America, Cina, Gibilterra, India. Però, ragazzi, diciamo che il discorso è relativamente scarso. Perché poi si sapeva, insomma, che Totti si sarebbe ritirato e sarebbe entrato in dirigenza con la Roma. Il discorso è questo. Qualora Buffon decisi di andare in America o in Cina a chiudere la carriera, io non fossi Juventino, non sono Juventino, ma fossi Juventino, non me la prenderei. Con Totti un po' me la prendevo. Me la prendevo perché... Allora, da un certo punto di vista non me la prendevo perché non è stato lui a scegliere di chiudere. E qua avrebbe fatto un altro anno. Me la prendevo perché la bacheca, no, la carriera di Totti parlava così. Roma, 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 Roma per 25, 26, 27 volte. Buffon c'è stato anche un prima Juventus. Poi ha scelto di diventare la bandiera della Juventus. Io credo che un suo passaggio in Cina o in America per chiudere la carriera lì, in Australia, o comunque dove vogliate voi, non intacchi quanto di buono fatto a Torino. Però io penso che Buffon deve smettere. Io credo che, qualora oggi smettessi, iniziassi a studiare, entro 4-5 anni ce lo troveremmo veramente come CT della Nazionale Italiana. E io confido in questo perché credo di aver visto in Buffon la persona più attratta dall'Italia. Cioè mi sembra di vedere, quando vedo Buffon cantare l'inno, quando vedo Buffon difendere i colori della mia Italia, mi sembra di vedere un uomo innamorato della stessa donna da una vita, che continua ad amarla giorno dopo giorno. È una cosa un po' filosofica, è una cosa un po' affettiva, un po' particolare, perché poi si parla di calcio. Forse è esagerato, però questo mi sembra di vedere. Ed è per questo che io spesso difendo Buffon. Io lo ammetto per primo. Quando Buffon fa i miracoli sono il primo a dirlo. Quando Buffon fa un errore sono parecchio restito a dirlo. Ma perché io ho un affetto grandissimo verso Gianluigi Buffon, e fa parte di quella cerchia di giocatori che mi hanno fatto amare la nazionale italiana, quali magari Del Piero, quali Totti, quali Pirlo, quali lo stesso Grosso, ma per un motivo forse nemmeno troppo rapportabile, diciamo, paragonabile alla persona e al giocatore in sé. Grosso è un'eventualità, un mondiale fatto benissimo, complimenti, grande. Però le bandiere sono state altre, le ribadisco. Ma non bandiere per forza di un club, in le mie facce del mondiale. I vari Pirlo, lo stesso Buffon, Totti, Del Piero, questi. Luca Toni, Luca Toni era un altro, ragazzi. Luca Toni, anche se il nazionale ci ha giocato giusto quel 2006 e poche altre volte, era uno di quei pochi che mi faceva essere fiero di tifare Italia. Ed è per questo che molto spesso mi infastilisco quando un italiano non tifa Italia. Ragazzi, l'Italia è la nostra nazione. Io spero, ve lo auguro, ve lo auguro davvero. Io spero che voi un giorno, voi che in questo momento snobbate la nazionale italiana, forse perché in un momento di crisi, forse perché non ci credete abbastanza, spero che un giorno possiate guardare alla nazionale italiana la maglia azzurra con gli stessi occhi con cui la guarda Gianluigi Buffon. In quel momento vi potrete, anzi, scusate, dichiarare veramente innamorati. Come si guarda una donna che si ama da una vita? Buffon in questo modo guarda la maglia azzurra. Ti ringrazio Gigi, grazie mille. Grazie mille perché se tifo Italia, se tifo Italia di ogni mondiale, se soffro per gli azzurri, è anche e soprattutto merito tuo.